Edo, cosa c'è scritto su questo bigliettone? Cosa c'è scritto per la nostra amata? Gabri! Cioè avete capito, la Gabriella ormai è una star dei social, viene invitata agli eventi come influencer ancora prima di Edoardo. Edoardo non ha apprezzato molto questa notizia. Allora come sempre il papà di Chi Nicoletti lo riprende a casa mentre fa i suoi gattonamenti. In realtà sappiamo tutti quanti che Edoardo ha iniziato a camminare e adesso eccolo qua, non riesce a tirarsi su, a alzarsi in piedi. Invece passiamo adesso in compagnia di Marina di Guardo che si trova in montagna ed è anche in compagnia di Edoardo. Prima vi faccio vedere un po' il paesaggio, poi vediamo delle splendide foto della nonna con il suo nipote. Eccole qua, bellissima lei, bellissimo. Io continuo a insistere che si assomigliano, voi mi dite, no non è vero, invece io trovo che Edoardo assomigli tantissimo al papà, a Chi Nicoletti tantissimo, però abbia preso anche la struttura del viso della nonna Marina di Guardo. Ecco qua, foto bellissime. Vi lascio, ciao! Ciao!